Non il bagno di folla delle sue ultime apparizioni, ma sabato mattina nella città della Fortuna c'era comunque un nutrito gruppo di simpatizzanti ad accogliere il segretario della Lega, Matteo Salvini, alla bottega del gusto di Corso Matteotti. Tra i tanti temi trattati non poteva mancare quello più incalzante, il caro Bollette. Non si può aspettare l'albergo a Senigallio dove ho dormito stanotte, mi ha fatto vedere la bolletta, che è triplicata rispetto all'anno scorso e quindi qua occorre un intervento urgente italiano ed europeo per bloccare gli aumenti. Altrimenti noi vinciamo le elezioni ma ereditiamo un milione di disoccupati. Perché se lunedì la Russia chiude i rubinetti bisogna intervenire subito con alcune decine di miliardi, probabilmente i 30 miliardi che chiediamo da tempo non bastano per bloccare gli aumenti. Molti di quelli che dicono aspettiamo il nuovo governo per bloccare gli aumenti di luce e gas non hanno capito che a ottobre molte aziende saranno chiuse e quindi io voglio salvare l'economia del paese. A proposito di energia, per il leader del carroccio occorre un cambio di passo riassumibile in una sola parola, nucleare. Tutto il mondo sta investendo nel nucleare, dalla Francia, gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone, la Corea, la Russia, la Romania, la Finlandia, la Francia, la Slovenia, tutto il mondo produce energia sicura, senza emissioni con poche scorie e pulita e quindi non può essere solo l'Italia a dire no. Aggiungo la riflessione sull'Adriatico, ci sono i croati che estraggono gas e noi quello paghiamo caro. Sul fronte internazionale Salvini è tornato a rimettere in discussione l'efficacia delle sanzioni combinate alla Russia. L'unico caso al mondo in cui le sanzioni per fermare una guerra, per mettere in ginocchio un regime, per bloccare gli attacchi, non danneggiano i sanzionati ma danneggiano coloro che sanzionano. Quindi ci stanno rimettendo marchigiani e italiani e ci stanno guadagnando i russi. Quindi evidentemente a Bruxelles c'è qualcuno che ha sbagliato i conti, bisogna continuare a sostenere, difendere e aiutare il popolo ucraino, ma le sanzioni non stanno facendo male alla Russia, che sta guadagnando centinaia di miliardi in più, stanno facendo male alle nostre imprese e alle nostre famiglie. Quindi evidentemente c'è qualcosa da ripensare. Secondo il leader del Carroccio c'è tanta voglia di centrodestra, nelle Marche come in altre regioni. E sono due gli assessori regionali candidati alle prossime elezioni, il fanese Mirko Carloni e Giorgia Latini, che in caso di vittoria lascerebbero in giunta un vuoto che ha preoccupato sin da subito anche lo stesso presidente Francesco Acquaroli. Per la Lega vince la squadra e quindi se due persone vengono scelte e promosse dai marchigiani per rappresentarle in Parlamento ce ne sono altre 20 in Casa Lega, fra amministratori locali, imprenditori, militanti, pronti a rafforzare la squadra della giunta regionale, quindi per me problemi non ce ne sono. Aspetto con gioia il voto dei marchigiani del 25 settembre. Libero accesso al primo anno della facoltà di medicina, poi una scrematura sulla base dei voti ottenuti. È questa la ricetta della Lega per metter fine alla carenza di personale nella sanità, un problema che nella nostra provincia negli ultimi mesi ha compromesso il regolare servizio di guardia medica. E poi c'è il Covid, su cui Salvini si è mostrato sostanzialmente ottimista. Conto che il tempo degli obblighi, dei green pass, degli allontanamenti da scuola, dall'ospedale e dal lavoro sia un ricordo, ahimè, dei mesi passati e quindi che si possa guardare con fiducia al futuro. Poi se Speranza piuttosto che Crisanti fanno campagna elettorale sui morti, a me mettono tristezza. E farò di tutto perché il prossimo Ministro della Salute sia un medico, sia un medico che conosce il tema di cui si occupa. Infine, sempre sulla sanità, l'affondo contro la gestione degli ospedali da parte della scorsa giunta regionale guidata dal Partito Democratico, a partire da quello di Fano. Conto di tornarci perché quel cittadino in bicicletta mi diceva vieni a vedere come il PD in passato ha ridotto l'ospedale di Fano e a me piace toccarle con mano le situazioni. Abbiamo una squadra, il governo delle Marche, che sta recuperando in pochi mesi tanti anni perduti. Però a Fano conto di tornarci. Ovviamente oggi è un sabato mattina alle 9.30, però l'accoglienza mi sembra straordinaria. Poi ripeto, per me come segretario della Lega e come italiano le Marche sono un modello di buona amministrazione.